gentili telespettatori buona giornata ricciardi parla della nuova variante omicron così l'hanno chiamata e dice che il contagio è praticamente certo per i novax cioè per chi non si è vaccinato quindi il professore in un tweet basato sui dati preliminari del professor topol il contagio da variante omicron per i soggetti non vaccinati è praticamente certo scrive su twitter walter ricciardi consigliere del ministro della salute roberto speranza in relazione ai rischi connessi la diffusione della variante omicron se con la delta l'infezione per i non vaccinati era probabile con l'omicron è particolarmente è praticamente certa il rischio è tre volte superiore a quello della delta che quello della delta era già molto superiore all'originale scrive ricciardi aggiungendo l'elequente appello vaccinatevi 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 il professore di biologia molecolare nonché fondatore direttore dello di un di un giornale e di un istituto riassume le caratteristiche della variante omicron in base ai dati preliminari raccolti sinora i sintomi legati a omicron appaiono più lievi e la protezione del vaccino aumenta in maniera rilevante con la dose booster ci sono però anche elementi negativi che vanno evidenziati in particolare evidenzia topol i casi raddoppiano ogni due tre giorni questo produce molti più casi e questo aumenta il rischio di contagio per soggetti fragili immunodepressi che potrebbero suddibire anche danni poi di un certa di una certa rilevanza io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata